I fondi diretti agli istituti scolastici, così da contrastare il fenomeno della dispersione e migliorare i risultati nell'apprendimento di studenti e studentesse, è quando previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, 1,5 miliardi di euro, la dotazione finanziaria di cui 500 milioni già ripartiti tra i vari istituti beneficiari delle regioni italiane, 3.198 in tutto, il 51,16% destinato al sud, con oltre 74 milioni di euro, la Sicilia è la seconda regione con importo maggiore a ricevere più fondi, solamente la Campania con oltre 79 milioni di euro, quasi 80, le scuole del Catanese beneficiari del contributo, tra queste 6 quelle ubicate a Paternò. Si tratta degli istituti di istruzione superiore gestiti dalla città metropolitana, Francesco Redi, Gioacchino Russo, Francesco De Santis, Mario Rapisardi e Enrico Fermi, è l'unico comunale, Giovanni Battista, Nicolosi, quello paternese si conferma secondo centro, dopo Catania, per numero di plessi oggetto di finanziamento. Tra le scuole del comprensorio a ricevere fondi è anche l'istituto comprensivo di Motta Santa Anastasia, gli istituti Pietro Branchina, Giovanni Verghe, il comprensivo secondo canonico, Vincenzo Bascetta di Adrano e ancora due istituti di Belpasso e altrettanti di Bronte e Mister Bianco. Le scuole coinvolte riceveranno nei prossimi giorni la comunicazione del finanziamento e la convenzione con le indicazioni sulla base delle quali potranno realizzare la loro progettazione.